Ma che cosa bizzarra, definirsi speciale, come se fosse possibile essere normale. L'ostraordinario cambia come le mode, è il vestito giusto, pronto per l'occasione. Mmm, 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 mmm mimetizzarsi. Eccolo uno del branco e colleziona sbagli con il vestito giusto pronto per l'occasione. Oggi un giorno accade che lo specchio rifletta l'immagine di un estraneo dallo sguardo deluso che sembra domandare che fine abbia fatto quella faccia strana che era senz'altro più vera. Mh, 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 mh. Essere fuori posto a volte è necessario per non rischiare di vivere la vita di un altro. Eccoti uno dei tanti e se collezioni sbagli Prendi pure il tuo posto tra gli esseri umani Eccoti uno dei tanti e se collezioni